è stato rilevato come nel cristianesimo nella chiesa cristiana vi siano due correnti distinte rispetto all'autorità cosiddetta corrente fredda e corrente calda corrente fredda sposa al sistema di turno acriticamente quindi l'ordine autoritario costituito qualunque esso sia senza alcuna remora e senza porsi alcuna domanda mentre invece la corrente calda pur riconoscendo l'autorità e pregando per essa come scritto nella bibbia auspica tuttavia giustizia e verità e subordina il potere costituito all'esame per verificare se questo coincida o meno con la volontà di dio o se questo è in netta opposizione alla volontà e alle leggi stesse di dio quindi un'usurpazione del potere legittimo quindi auspicando giustizia sociale in vista del regno dei cieli le due correnti sono molto differenti tra loro e sono tutte e due presenti all'interno del cristianesimo questa è una constatazione di fatto